Ciao ragazzi e ciao ragazze e bentornati in un video, in questo video ragazzi andremo a parlare di una notizia per me è un ventino che fa godere in una maniera incredibile perché comunque la Roma si è liberata di uno dei portieri migliori al mondo, ovvero Becker Allison perché in questo momento sta svolgendo le visite mediche e prestissimo sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool perché questa operazione sarà a livello storico perché lui, Allison, è stato il portiere più pagato nella storia del calcio ben 75 milioni di euro complessivi che chiaramente li prenderà la Roma mentre lui prenderà un contratto da 5 milioni e mezzo a stagione quindi veramente anche per Allison un contratto incredibile e ragazzi io godo, io godo in una maniera incredibile perché sono juventino e comunque Allison era un ottimo portiere e comunque la Roma è la nostra diretta concorrente e quindi meglio così, la Roma si è indebolita nel senso in porta perché adesso in porta chi ci sta, Mirante, ok? che adesso la Roma sicuramente si prenderà un nuovo portiere ma non sarà mai, cioè mai forte quanto Allison perché ragazzi, Allison, a meno che non si prenda Courtois ma Courtois è direzione Real Madrid ma Allison, come ho detto io, cioè io comunque lo ammetto Allison è uno tra i migliori portiere al mondo però io che so io ventino, godo, godo perché appunto la Roma si è indebolita si è indebolita in porta quindi ripeto, se prenderà Courtois allora ne riparliamo ma oltre Courtois ragazzi nessuno, nessuno potrà comunque potrà far dimenticare Allison perché Allison negli ultimi trent'anni della Roma è stato il portiere secondo me più forte negli ultimi trent'anni che ha avuto la Roma almeno secondo il mio punto di vista poi vabbè anche in questi ultimi anni la Roma è stata un po' fortunata perché aveva Scesni poi vabbè però Allison è stato il miglior portiere negli ultimi trent'anni della Roma però ragazzi, allora comunque vabbè mi dispiace per i romanisti che mi seguono però io del tifosio ventino devo godere è giusto, è giusto che io debba godere di questa cosa perché adesso comunque la nostra diretta concorrente si è indebolita si è indebolita anche se comunque Allison frutterà tantissimi milioni che sicuramente la Roma spenderà perché 75 milioni per un portiere sono veramente tanti però lasciatemi dire che per Allison allora, 75 milioni sono troppi però per me 60 milioni per Allison li vale, li vale tutti Allison li vale tutti perché per me è uno dei migliori portiere al mondo ragazzi, il video è finito spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando iscriviti al canale se non sei ancora iscritto lascia like se non l'hai ancora lasciato e mi raccomando sul mio profilo Instagram che trovate il link qui in descrizione comunque metterò metterò appunto come potete vedere qua una Instagram Stories in cui vi chiedo cioè in cui voi mi fate le domande di calcio mercato io vi risponderò senza troppi problemi e comunque non ci saranno soltanto queste cose su Instagram ma ci saranno anche news sul mio canale YouTube e tanto altro ancora quindi mi raccomando link in descrizione troverete il mio profilo Instagram quindi mi raccomando seguitemi in tanti e veramente perché ci sono tantissime novità sul mio profilo Instagram dato questo ciao ragazzi ciao 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 ciao